Un'impresa agricola fittizia realizzata al solo scopo di truffare l'Inps. Si conclude con 137 denunce, l'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Caltanissette e dei Carabinieri di Riesi sulla Carosello 2000. L'impresa agricola con sede nel comune della provincia nissena, che avrebbe ricevuto sussidi di disoccupazione agricola semplice, assegni per il nucleo familiare, per malattia e per maternità, per oltre tre anni, sottraendo all'ente pubblico circa 900.000 euro. In particolare la ditta, o meglio i titolari, uno di origine rumena e uno italiana, avrebbero assunto soggetti compiacenti presentati all'Inps come impiegati, per poi in un secondo momento comunicarne il non utilizzo e ottenendo così l'indennità prevista per i giorni di disoccupazione. Denuncia per i falsi braccianti agricoli, accusati ora di truffa aggravata ai danni dello Stato e falso in genere, mentre per i due autori della truffa, già in carcere, è stato disposto il sequestro di diversi conti correnti, di un complesso aziendale, di tre appezzamenti di terreno e di tre autovetture, per un importo pari a quello illecitamente percepito. Inoltre il rappresentante della ditta è stato denunciato per estorsione, in quanto per ottenere illecitamente le somme di denaro derivanti dalle indennità di disoccupazione percepite, avrebbe rivolto ad uno dei falsi impiegati, minacce di morte e di attentare alla serenità della sua famiglia.